Degli un po' che c'ho da fare io. Teresa si lamenta sempre che non leggo i commenti che mi scrive. Allora adesso leggili, per no che ti fai. Allora sai che gli consiglio? No, non ti fai la canolaccia. No, gli consiglio, gli suggerisco di scriversi ai sindacati di quelli che non leggono i commenti. Ah sì. Ci sta, eh? Come no? Ah, non so io. Mi fa vertenza, dice Gianni non legge i commenti. Ah certo, lei sta parzellettata di leggere. Dai Teresa, è l'amore mio, no capisci? Oh, va bene così? Che a chi è l'amore tuo? Teresa? Ciao a che anno più di me. Che gli faccio, sì, una brutta se accampava a 60 anni, bionco. Eh? E' bene, per i consigli, sa quello che può essere, per la persona anziana. Ma mi posso più a una più anziana di me, mi ce l'avete? No, 10 anziani tu. Io una a 20 anni meno di me deve averci? Manco. Manco? No. 10? Ma puoi che lei, con la figlia mia, arriva a fondo del bari? Sì, vabbè. 10 anni meno di me, va bene? Mh. Ci potremmo stare? Dove stare? Deve nascere ancora? Ma comunque... E tu non mi collabori, niente? Ma certo, tu sarei beccarella. Posso suonare una canzone? Dai, e beh no. Ciao, e senti che marescialla? Questa com'anna, eh? Ah beh. Andati... Ehi... Ehi...